Mi stava dicendo chi viene stasera signora? Stasera c'è Luigi Rignanese, un cantastorie narratore italo-francese alle 21 qui alle Antiche Mura. Era di origine di Manfredonia questo signore? Sì, di origine di Manfredonia, così mi hanno raccontato e questa è la prima volta che vengo a vederlo anch'io quindi mi fa molto piacere perché l'ho rincorso già da un anno e stasera finalmente lo vedo. Quindi stasera alle 21 qui alle Antiche Mura.